E' ancora in moto la macchina della solidarietà aretina. Continuano infatti le iniziative benefiche a favore delle popolazioni terremotate. Si è svolta mercoledì 6 settembre nel parcheggio Eden la raccolta fondi delle associazioni di volontariato aretine a favore del comune di Acqua Santa Terme, località colpita dal sisma alla quale la città di Arezzo ha deciso di concentrare la maggior parte dei suoi aiuti. E come già successo in altre occasioni la solidarietà anche in questo caso ha fatto rima con il buon mangiare. L'Eden Garden ha infatti inserito per la serata di martedì nel proprio menù la matriciana devolvendo così 2 euro per ogni porzione servita. E dopo la solidarietà e le eccellenze gastronomiche non poteva mancare anche la musica ed il divertimento con il gruppo aretino La Maleducazione. Noi personalmente siamo dei semplici musicisti che ci divertiamo tanto, tutto qui. E scettiamo di fare sempre qualcosa di utile anche per quell'altro. In questo caso il terremoto. Sì, in questo caso il terremoto abbiamo deciso di dare parte dell'incasso della serata in beneficenza per il terremoto. E poi tutto quello che vendiamo del materiale nostro, magliette, cd e roba del genere, tutto quello che ricaviamo da quello lo diamo in beneficenza lo stesso. Sì, in questo caso il terremoto è il terremoto. Sì, in questo caso il terremoto è il terremoto.